madonna let's go let's go vi alzo il volume chat poi nel dubbio abbasso dopo è comunque warning per gli occhi per gli occhi sì perché è particolarmente sensibile che riguardano gli occhi ok sì 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 è vero trigger warning sì giustissimo trigger in the trigger on i piedi piedi di mindflayer i'm gonna hit that la cell non il main player ovviamente e sappi che se sei altabbato in qualsiasi maniera ti toglie l'audio allora forse solo basso fatemi aprire anche la chat di john andrea vai vai se avete un feticio per i tentacoli queste prossima mezz'ora vi riguarda da vicino no ma che cos'è ma è no non dire carino delia non azzardare cosino piccino e carino no neanche il cosino piccino e carino per niente delia che scrivo interessante è ancora così carino delia proprio no è sì già hanno un gusto un po strano per il carino quindi vedi che sta con me infatti non sono problemi miei ma io ho finito il play through di alien isolation qualche mese fa dai ok parte la speed run ragazzo parte la speed run via personalizzata via mi avete messo ansia mi avete messo ansia spruzzo ranger di pesa background so del velo ammaestratore background forestiero giusto vabbè in realtà non è per il vantaggio ma è per il background quindi se ci sta modifica aspetto mi ricordo che brava delia 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 eh ma perché io l'ho fatta con gianna e poi mi sono dimenticata di cambiarle eh sì ok ricordo più vabbè questo lo faccio dopo e quando arriva gianna li faccio insieme a voi questi cosa le classi facciamo magari dopo quando avete finito le competenze abbiamo scelto pene di esatto sì le competenze anche caratteristiche erano adesso te le dico perché me le tendenzialmente me le ricordo vai tranquillo che tanto sto facendo l'immagine e poi ok allora intanto modifico l'aspetto maschio fisico 2 voce 7 volto 3 cresta 1 mento 9 questi noob hanno preso gli appunti ragazzi non vanno neanche a memoria pensa a te certo fucking noobs raga il sesso dov'è è in alto il basso modifica in basso a destra in realtà c'è anche modifica corpo no sì allora quando vengono il corpo generale tipo di corpo 1 è femminile tipo di corpo 2 è maschile a posto dottore bianco 9 body art niente ah no questo stelle occhi era occhi blu fiammante anche lo screen ok trucco questo trucco era 15 sì questo qui nero coda 1 finito finito anch'io tutti i noob siete abbiamo finito insieme bugiardo vinto di 5 6 secondi sono andato anche lento va va bene vediamo quanto tempo ci vediamo quanto tempo ci mettiamo a fare la fregna perfetto no sai che non è vero perché io in realtà non ho guardato le caratteristiche e allora vinco io devo dire che allora hai vinto tu gian perché io non l'ho guardato in realtà credo che rimarranno così ti vari da sberciato al mio stream al volo senza neanche che occupo la chat mi dice se secondo te ha senso sì dammi un secondo arrivo subito ok ci sono allora forza 12 destrezza 17 questi genitali allora la forza a te non serve puoi portarla giù a 10 possiamo portarla giù sì perché tanto tu i danni li fai tutti su destrezza rimarrei allora su tu conta che farò beast master allora questa roba o porti intelligenza 10 oppure ti ti sali di saggezza a 16 ma se faccio così scusami se tolgo una costituzione non posso salire con saggezza no il point by ti costa di più quello che puoi fare è togliere punti a intelligenza togliere un altro punto intelligenza e metterli e portare saggezza 16 per tanto costituzione 13 12 sono uguali madonna mia sono incredibili scusa ma io farei così a sto punto no passo un punto la saggezza costituzione mi tengo questo questo equilibrio che ha un pochettino più senso non metti genitali non li metto genitali attenzione deliasi ma ho scoperto il mio pg e scoperto esistenza e ho finito anche la fregna io ho ragione visto che finito sì così poi vado a fare la fregna i punti caratteristiche erano 8 allora punti caratteristiche erano 8 17 erano sicuramente 14 in carisma 10 in saggezza 10 in saggezza porta tutto a 10 porta tutto a 10 tranne forza forza la lascia 8 destrezza la spinge a 17 mi pare che fosse 8 17 10 14 12 14 se non sbaglio quindi costituzione 10 o inverti ah no che cazzo dico intelligenza era no era il contrario giusto era 10 mil esatto inverti era 10 intelligenza saggezza 14 e carisma 14 mi fa arrivare soltanto a 11 perché aspetta che vengo a sbirciare il tuo stream così allora no perché hai messo costituzione 14 devi abbassare costituzione a 12 giusto si abbassa costituzione a 12 saggezza 12 porta carisma più in là togliti un punto di saggezza togliti saggezza un paio di punti e spingi carisma a 14 esatto destrezza 18 ma non posso ragazzi ne rimane una dove preferisci dove pensi di voler poi investire i tuoi punti credo di fare così io invece vediamo guarda un po gian sì 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 io credo che farò così va benissimo funziona stealth ho tolto stealth perché mi frega in casa e c'ho già un più 3 naturale mi tengo quello messo indagare va bene c'è un pochettino di più ci sta ci sta va bene sicuro la forza 8 in teoria non la uso su non la usi il tuo personaggio non spinge sulla forza perché usa usando soltanto armi da distanza o armi per le abilità esatto metto il tuo in primo piano tu avevi messo acrobazia acrobazia intuizione inganno e persuasione intuizione è quello al centro eccolo lì esatto e poi ho messo rapidità di mano e furtività perfetto perfetto mi hanno chiuso e va bene ma certo ma certo ma certo io ho fatto così 8 17 13 10 13 14 sì va benissimo sì tendenzialmente va bene quello che ti posso consigliare è magari un punto in meno in costituzione per dare un punto in più a saggezza forse se riesci perché raga se premo all'avventura ho finito cioè vi aspetto perché ma dovrei essere io a scegliere se se proseguiamo quindi esatto e perché il point by di dungeons and dragons funziona che più il punteggio che vuoi far salire è alto e meno ti permette di farlo salire capisci è come se costasse più in alto dovresti togliere sì esatto dovresti fare che ne so costruzione sì una roba del genere altrimenti punti porti carisma 15 con l'idea che poi a level up a livello 4 aumenti di nuovo le caratteristiche vedi tu come distribuirli già così la tua scheda così va già bene poi è tutta una questione di tuo piacere allora se io faccio avanti provo a premere avanti sperando di non rompere niente solo perché devo andarmi a fare la fregna no 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 non cambia puoi farlo tranquillo credo mi porti alla fregna sì 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 esatto randomizziamo la fregna fino a che non esce un elfo un mezzelfo che ci piaccia ah ecco cosa volevo dirti per la fregna ma fai sorella garael ah lol quanto twist no dai super da perché no ti do anche una mano a farla effettivamente perché no capelli tanto devi prenderli tipo no 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 ti prego dai prendi i i va bene allora da dove parto dai dai sest'ultimi capelli e gli elfo giusto elfo sest'ultimi capelli elfo sottorazza elfo alto si non sbaglio esatto sest'ultimi capelli e gli elifai 456 e gli elifai biondo dorato 3 ovvero il terzo della seconda riga biondo dorato 3 con riflessi poi non puoi non metterglieli riflessi trucco tolgo riflessi trucco ti direi un trucco trucco 4 ovvero la base ce l'hai anche la testa di partenza e la testa e secondo me è questa comunque quella già di base la testa 5 5 forse sì io ti suggerirei piuttosto la testa o la testa 3 o la testa 4 quella che ti quella che ti infiga di più 4 4 4 ok body art niente come colori quelli che ci sono già van bene il trucco quello che ti piace di più ma così già è una ottima sorella garel vediamo ci sono dei capelli più adatti ma non occhi scusami occhi quelli che ci sono già di base va bene come elfa blues è il blues è però mi vede sposto il più uno perché mi ha detto di spostare il più uno all'assegnazione bonus intelligenza mi va a 9 sposto più no e sì perché il più ma non ti preoccupare così va benissimo ma bene così buona 12 era sì che ruolo ai guardiano ecco faccio così perfetto risolto sex sex on the beach e zegs io poi voglio io poi voglio sbirciare il guardiano di gabbo dimmi che ti fai una mezz'orca in realtà no no la mia come a come l'or che è scolorita ha fatto un lavaggio temperatura troppo alta niente occhi rossi ciao queste cicatrici sul volo ok quando ci siete io posso premere all'avventura quindi e fate il ready perché so vedo gabbo che ha premuto il ready quindi sempre pronto ho messo solo sei ore a fare download però va bene lo stesso non ti preoccupare gabbo delia c'è io allora internet di borgo sono 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 emozionatissimo allora 3 2 1 via oh mio dio mai e quindi gli amici mind flayer ci hanno messo un piccolo rassitino nel cervello bello e piacevole robetta interessante vi alzo il bruma al massimo ma è un paguro indicato di abbassare il volume del gioco sento cioè come se fossi sulla nave dei mind flayer hai sentito un buah fortissimo era il rumore dei razziatori dei razziatori esatto si buono messo l'ho messo al massimo ora così la chat se lo godi di brutto è vero raga ma è firenze ma è anche un po venezia in realtà adesso si vede i cosi anche un po roma un po napoli siamo in italia william scream william scream sì guarda che figo ma sono letteralmente razziatori che rubano la gente per ciucciarla sono già nell'iper fantasy totale vai sì piccola spiegazione breve quelli sono mind player vanno in giro per per i piani a prendersi gente ciucciarsi gente fare i bastardi quelli che sono arrivati adesso sono i ghi bianchi invece cavalca draghi che hanno come nemici naturali proprio i mind flayer e chiaramente tutto questo è una scusa perché semplicemente se metti un drago in un fantasy vendi il doppio quindi avevano bisogno di mettere dei draghi boing mi mettono una roba tentacolosa piuttosto che un drago di stile ma che stile è sto salto madonna santa stonk e la corda di un basso se ricorda bellissimo la corda di un basso veramente incredibile ma come cazzo ti guidi in abruzzo dicono così come cazzo ti guidi rallenti ha il foglio rosa questo mi questo main player dicono c'ho solo il foglio rosa poverino dai capiamolo e quindi il drago riesce una frazione di secondo prima del teleport a tirare la sua sfiammata letale capito però anche main player che lasciano le bombole di gasolio così in mezzo a una stanza piena di prigionieri c'è è ovvio che puoi essere ma che chiappe le a cell va bene già già l'andrea la ghi tianchi non è qua per soddisfare il tuo male gaze non ancora arrivano due due di numero demoni due due proprio di numero in ok incredibile perfetto perfetto mamma mia si parte allora vediamo come la gestisce si parte e prima di partire vi dico siate clementi con me che magari sono un po' tarda ma vai tranquilla essendo inesperta no problema adesso ormai abbiamo fatto il gruppo abbiamo fatto le pubblicità no te ne esci vabbè allora non iniziamo mai non iniziamo mai allora ce ne ho capito mi stavo scherzando siamo qua apposta dialogo privato dialogo privato vuol dire che puoi scegliere se alcune opzioni vederle solo tu fondamentalmente senza far vedere il resto del tuo team mamma quanto sono figo raga mamma mia mamma quanto sei il drago bianco occhi blu è un botto io ma quante donne ci sono nel gruppo eccoci eccoci si tenarion car cosa? dove siete? cosa hai detto? sei l'unica lontana ah ecco infatti io mi chiamo malissimo ma posso lanciare posso lanciare Val? puoi lanciarmi certo che puoi lanciarmi eh c'è scritto lancia lanciate me a questo punto allora questo qui è Simone eh Curren chi è? è Moac Carren 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 perdoni e poi abbiamo uno che ha la testa da drago che è Gian eh sono sono un drago bianco sono seto è drago bianco occhi blu eh sì drago bianco occhi blu raga raga io vado a toccare il mind flayer morto già fatto eh fai un po' come come ti pare allora io intanto faccio una prova F5 era vuoto ha salvato anche voi? sì 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 perfetto allora Simo credo molto importante questa cosa sì c'è sto fontanone al centro che ti consiglio di esaminare tu perché è saggezza più alta va bene levatevi però perché ho già una previsione secca di cosa succederà vivai o salmastro vivai o salmastro la pozza da cui è uscita quella cosa è il prassita che ora si contorce posso unire il dialogo che figo eh come come potete votare credo che possiate votare su che cosa scegliere giusto? no io non vedo posso lanciare un sondaggio magari dopo magari con dei dialoghi eccolo eccolo posso indagare Delia provo anche tu ma la scelta aspetta a me ovviamente quindi lo farò perché è giusto così prove di caratteristica alcune opzioni di dialogo richiedono una prova di caratteristica ovvero un tiro di dado che deve raggiungere o superare un numero prestabilito caratteristiche abilitarie del tuo personaggio possono aggiungere un bonus a questo tiro e io c'ho competenza in indagare quindi basta fare dieci quindi il primo tiro di dado di questo gioco dai facile let's go let's go un bel sedici che te lo dico a fa il minimo tocco potrebbe farlo sgretolare e quindi qui c'è una grande scelta ragazzi che è vattene io lo sfascierei di botte la scelta giusta avvicina la mano alla pozza che sceglie Delia che nonostante le abbiano appena detto se lo tocchi salta in aria il Delia ha scelto comunque avvicinava la mano la pozza c'è un endgame molto preciso con i piani di Delia tanto ci devi mettere tu la mano mica io non toccherò raga io vi dico ma io credo che l'attaccherei cioè giusto per vedere che magari da rotta non salta fuori qualcosa di utile vai lo faccio a distanza vai lo faccio a distanza è lontano Ale perfetto è esploso ed è esploso in effetti no ragazzi premete tab mamma mia ci sono tutti si possono scegliere contemporaneamente quindi se io devo passare immagino un oggettino qualsiasi si esatto ce li si può possiamo anche riportarci in vita si wow ok ok let's go riportare in vita un compagno che torna in vita con un punto ferita ok ok ma se io provo a parlare con Seto per esempio cioè attacca no no purtroppo non possiamo non possiamo parlare tra di noi puoi esaminare quanto sono bello puoi esaminare quanto sono bello puoi esaminare quanto sei carino posso lanciarlo perché posso lanciarlo no c'è solo l'opzione ma non puoi selezionarlo non posso lanciarlo lancialo 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 cioè c'è ma non posso selezionarlo vabbè raga io apro lo sfintere va bene vai 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 e la porta invece no quella no anche quella però allora qui c'è roba siamo entrati in un buco di culo un goblin e una registrazione chi è che ha servito il goblin già siamo già gli antipasti evidentemente io sto qua seduto ad aspettare urna cerebrale va bene va bene fate fate sento la voce siamo qui è composto da nervi e tendini sembra essere una creatura vivente tanto quanto la nave io mi dovrò abituare al giro di telecamera perché è strano ma mi dovrò abituare lutta tutto lutta tutto è normale che abbiamo la mappa nera sì no la mappa nera anche voi avete la mappa nera sì sì perché sono più messorata immagino raga come si evidenziano gli oggetti che posso comunque si può imprimo alt alt paoletta mistica let's go credo giusto sì dovrebbe essere alto sì sì ho capito spaccate tutto a questo punto ti aspetto sull'ascensore perché è sicuramente un ascensore apparato neural non succede niente è già giù ma in realtà potremmo andare di qua anche però mi fido di te che tu hai un è miglior intuito seto si fidi mi fido mi fido mi fido si sentono le vocine vada vada un bel culetto Val comunque cosa? ha un bel culetto Val io una grazie grazie mille Enarion quanto quanto scuota Val è parecchio comunque ragazzi non ha molto impegno nel giorno quindi ma guarda come sculetto guarda come sono modello mi unisco al dialogo allora vedo un dialoghino con Mirnat il raro sculettone invece il signor seto ha una bella coda signor seto c'ha un è fighissimo poter giocare insieme da subito percezione fallimento molto bene signor Galgit e quindi con chi sto parlando un uomo o un cervello sentiamo ma se clicco su Mirnat mi dà questa opzione si se clicco su Mirnat vedo il dialogo di di Gianandrea sto guardando i vostri dialoghi si si e quindi se io provo a scegliere penso che sia troppo tardi per salvarti dimmi cosa devo fare lo vota e io gli distruggo il cervello sei andato su distruggi il cervello si col cazzo perché distruggi il cervello Gian perché col cazzo che lascio unitili di vita ma poteva poteva essere un piccolo carino no seto non permetterà che queste che queste empie creature possano girare per i reami dimenticati no signore non finché ci sono io allora abbiamo lanciato ciao 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 dai la vado a prendere la vado a prendere la vado a prendere malissimo malissimo vieni su ehi Val annusami il dito annusami il dito sì Radiant lo è lo è lo è ragazzi poi dopo live finita quando ci salutiamo con gli altri faccio un just chatting solo con voi ragazzi su pariri e impressioni Val annusami il dito annusami il dito no io non lo farò questa cosa so benissimo qual è il riferimento non no ah cugini draghi ma che cazzo succede oh mamma mia cosa sta succedendo qua fuori cali di frame pazzeschi sì a me no davvero a me sì a me no la tipa attenzione la tipa esce così abominio abominio prima di tutto dice a tua sorella infatti ma poverina scusami guarda che belle scaglie flash il tuo volto visto con gli occhi della strana donna ti hai fatto pure i piercing li hai fatto sì 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 è proprio fresh è tutto certo ma il tuo personaggio va al Vans Warp Tour sì assolutamente eh no nessuno può schiavizzare Seto attenzione cosa ti ha fatto pensare che fossi uno schiavo chi sei? chi sei tu esattamente chi sei? Favonia chi sei? chi sei chi sei bella signora tu nome parla chi sei? una pera cosa scusa? una pera è verde cosa ti ha fatto pensare che fossi uno schiavo io? motivo per cui ho distrutto il cervello ma si vede che è una professionista del gusto vero Arleli dobbiamo decontaminarci o diventeremo noi stessi mindflayer esatto e quello lì è il vermetto che piaceva tanto a Delia ci stiamo trasformando se è un mindflayer allora è carino ma che carino anche l'oro Delia io ho visto delle cose carine in vita mia quello non è che rientri perfettamente nel e invece pare di sì eh ma quanto dicono diamo una mano a lei a se l'ammazzare sta bestia mamma mia ok andiamo ad ammazzare le bestie no poverino non sono dolcini allora tutto era il generico preparati a combattere combattenti si svolgono in round ciascuno di quali partecipate vabbè il gioco si ferma in questo momento non siamo più in modalità azione siamo in modalità turni e inizia Val perché ho rollato iniziativa più alta e io comando anche le azeri invece tu comandi anche lei perché ci hai sostenuto tu il dialogo ok e quindi adesso però io potrei fare già un'azione quindi che significa e tu devi allora siccome tu beh aspetta prova a fare la tua azione Delia allora tipo camminare semplicemente credo sia secondo me non te lo fa fare io posso cioè non allora c'è un modo il movimento lo possiamo fare no c'è un modo per stabilire la turnistica c'è un modo di stabilire la turnistica ho sbagliato tra l'altro nelle opzioni devo ricordarmi di togliere la roba che mi avevate detto cioè del dado carmico lo tolgo il dado carmico lo tolgo su opzioni sì opzioni gioco immagino il dado carmico ah ok allora un po' come in Dungeons & Dragons quinta edizione ma non propriamente in realtà noi possiamo agire nella nostra nella nostra turnistica come ci pare tipo adesso agito io ok ok quindi adesso se qualcuno di voi vuole agire può farlo oh ah l'ha coppato oh yes madonna mia concentrazione dardo stregato io tra le azioni bonus posso fare intingere pozione o respinta e tra i trucchetti c'è spruzzo velenoso ma non ora io ho terminato il mio io faccio io ho terminato io faccio avvicinare la zella a Val così evitiamo che ci stia secca e Dalia one shot attenzione si può anche spostare no bellissimo così cazzo sì e fico si muore dimmi aspetta no hai ragione è un buon suggerimento datemi un secondo ragazzi gioco audio silenzio di suoni quando inattivo ah gesù cristo meno male che c'è quindi si va al tabbo ah si sente lo stesso meno male ah sì c'è aspetta delle opzioni opzioni audio sì silenzio quando inattivo c'è quella roba lì silenzio quando inattivo perfetto molto meglio anche perché mi dava molto fastidio questa cosa menaglie menaglie uccidilo uccidilo ok luttate signori luttate tutto luttiamo tutto l'imp mi lascia un'accetta che vabbè meglio di un cazzo ok mi trovate una balestra raga ce l'ho te la do aspetta che devo fare inventario com'è già l'inventario inventario di equipaggiamento tab tab allora ti passo una delle balestre che ho trovato dove mi fa vedere lea zelman mi fa vedere carren ma in questo momento ma che musica con che musica me la sono presa io me la sono presa io non ti preoccupare è la prima scena del gioco cosa vuol dire tutta questa roba qua guardate eh oh ok bonus d'attacco dammi leggera e accurata simo ti passo una scimitarra che è un punto una spada che conta come spada leggera quindi accurata per il corpo a corpo che è molto meglio dell'accetta perché perché l'accetta non è accurata thank you da nada ok grazie brother da nada mind player monete quindi questa è la postazione di ristoro non abbiamo preso danno però la clicco lo stesso perché fa figo si ok fa figo come vi sto a dire qui ci sono a schiava morta acquari dei tentacoli c'è altra roba qua tunica semplice eh io mi faccio una pellica bravo bravo dormi dragoni del sculettone che non sei altro oh non è colpa mia se piaccio dragoni del sculettone non è colpa mia se se ti piace c'è un po' confusionario cosa? un po' confusionario forse appena lo vedi ti sembra confusionario quindi in realtà si devi solo prendere un po' la mano no prenderci la mano tunica tunica semplice classe armatura 10 non può servire a nessuno di voi immagino no può servire solo a a cosa? a a gabbo a karen ma tanto la classe armatura è quello che è prova a lanciarmela nel fammi vedere qual è? no ma c'è la classe armatura vestia non vedo karen ho la tunica da stregone uguale ok a posto io lo lascio per terra forza ragazzi salite lascia oggetto ma no ma raga prendete tutto si 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 poi si vende si vende tutto oltretutto quando poi sblocchiamo il campo quando poi sblocchiamo il campo non abbiamo nemmeno problemi di inventario perché mandiamo tutto al campo e poi vendiamo da là no infatti mandiamo tutto al campo bravo Gianandrea apri lo sfintere sono stato addestrato per questo aspetta qui bisogna aspetta leggi prima le targhette sopra per favore perché aggressività aggressività successo niente vigilo aggressività distruzione serve allora aspetta bisogna premere il primo il primo dovrebbe essere rilascio il secondo non lo sappiamo ok il secondo è aggressività il terzo è distruzione va bene e qui c'è qui c'è qualcuno c'è qualcuno che sta cercando di uscire ah allora io li ho storditi i cultisti sacrificati il che vuol dire che tendenzialmente potremmo anche ucciderli per prendere il loot no no nel senso così per ma ormai sono perduti cioè è molto facile è come in un anime è come in un anime i personaggi meno caratterizzati sono png che non contano niente perfetto esatto ciao ciao guinness grazie allora parliamo con la capsula mind flayer allora dentro c'è shadow heart la chierica di non mi ricordo che divinità che intrappola e sta cercando di uscire e l'esel dice si l'esel dice oh ce ne dobbiamo andare e quindi adesso la cosa è o la molliamo qua oppure dare un'occhiata in giro deve esserci un modo piccolino sei così bello cucciolino noi siamo carino andiamo a prenderlo dove dove c'è una mente oscura allora delia ha aperto lo sfintero ho visto già che c'è un ho già guardato mentre dal ladro ho già guardato che c'è un reliquiero decorato dovreste anche scassinarlo non dovreste guardarlo dovrebbe occuparsene delia allora dovrebbe provare a fare mouse destro mouse destro sul reliquio ecco l'amore abbiamo un bel dado dado un dado spog salvataggio salvataggio tattico che non si sa mai fatelo anche voi da casa ragazzi quindi ora buono allora dobbiamo cercare di liberare shadow heart a me sarà questo tasto qua a fianco che la libera beh questo 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 qua ragazzi non è questo va bene abbiamo salvato dai abbiamo salvato vai tocca vai delia stai facendo cerca un pulsante o una leva vabbè vado aspetta aspetta se clicchiamo anche noi mi immagino che vediamo quello che sta facendo delia colpisce aspetta aspetta stai facendo un tiro su arcano per capire che cos'è vai successo rune sigillanti senti che trago un'energia dal pannello di comando accanto alla cazza quindi me ne vado perché se tiro un pugno mi sai che un liquido misterioso oh no ho sbrattato e quindi cosa facciamo Gian Andrea porca di quella potrei avere sbrattato che cazzo è combinato potrei avere sbrattato ce l'hai quello che hai raccolto dalla cassa delia non abbiamo un healer ragazzi no aspetta che sto liberando la tizia vai libera libera yes ce l'hai fatta? tirato su arcano 14 su classe di piccolo bravo piccolo carren per dio ho trovato gli arnesi da scasso lì dentro non so sono uscito arnesi da scasso no credo che tu li abbia usati o c'erano nella cesta dai dai liberiamo fatemi uscire eh chi lo sta facendo studiare fuori d'oscuro sono io sono io vai vai mi sa che non ho guardato dentro ah ok pensavo che andassi in automatico allora vado fallo Dalia tornaci tornaci ordina la capsula di aprirsi classe difficoltà 2 ho il bonus di più 2 e comunque dai comunque anche con un 4 comunque ho fatto 6 nel senso comunque giusto per senti il cervello biomeccanico nel pannello non me lo sta facendo vedere eccola si alè partita 6 boys ah sul personaggio dobbiamo cliccare sul personaggio interessante quindi si può cliccare sul personaggio che sta facendo questa scena ok guarda subito guarda subito carri come rimorchia bella sta cosa ehi bella bionda come li porti i capelli bella bionda no ho preso è vuoto il forziere quindi non so qualcuno è già passato mentre lo aprivi giri con gente pericolosa come ti permetti come ti permetti quindi hai dei problemi con gli dianchi che sei razzista sei specista vuoi ucciderle e rubare l'armatura gentilmente ma piantatela non dobbiamo uccidere chiunque per rubargli l'armatura adesso adesso no vabbè sì sì flowerson l'ho vista adesso è che prima pensavo che bastasse cliccare sul pannello d'azione per vedere chi ci stava interagendo perché è come ho fatto la prima volta adesso invece è una specie di dialogo e quindi va sull'orecchio se ne va perché non siamo pieni e non abbiamo ancora è ovvio ovvio è interessante la tipa mi piace più della ghi tianchi posso ammazzare i cultisti puoi ammazzare quello che vuoi let's go ma perché ma dai l'hai mancato da fermo scarso in culo proprio intanto ho fatto 10 punti esperienza a testa sì perché ho toccato il comando distruggi non perché l'hai ucciso tu a manate l'ho anche ucciso io a manate allora sono tutto loro vetti di merda no poi ci resistiamo allora ragazzi dritto sfintare dritto sfintare di destra io direi sfintare a est andiamo lo sfintare a est va bene a tutti di qua vai vai quello non è quello è sud ah ma perché tu stai guardando sulla mappina però sulla mappina vabbè infatti che qui mi sembra più di là c'è la quest principale esatto sì nell'altro se diciamo di qua c'è la quest principale se andiamo di là esploriamo luttiamo ma non è esploriamo luttiamo ma il cervelletto è andato proprio di là secondo me è di là la quest principale guarda dove il cervelletto gira ah ok ma il cervelletto dove va eh punto magari una piccola secondaria carina una piccola e carina c'è una chiave chi l'ha raccolta Karen le mie piccole mani da mani grabbine sì sì ah il fling sono molto più rapide uh c'è un sigilo da mind flayer arcanista Karen sembra perfezionamento non posso derubarvi cos'è ah qui c'è una runa come cazzo sta seduto stai becini potrebbe sbloccare se lo premo fa perfezionamento orziere bello ho già preso io e se lo premi fa perfezionamento e qui dentro c'è un mind flayer cosa facciamo facciamo uscire no c'è una donna intrappolata allora dai vai simo apri tu sto giro must must press temo che metti metti temo che se perfezioniamo diventa un mind flayer ah sei un fedele di coral è già finito è già diventato un ah una roba ma perché hai premuto il tasto ma perché hai premuto ma perché hai premuto il tastone sulla console sì è quello è perfezionamento appunto boh vabbè hai capito ma l'hai trasformata in una in una roba in una roba go go l'hai trasformata frighissimo così no poi dice frighissimo perché ha cliccato a cazzo non è vero non è vero frighissimo ci sono andata apposta ma come permetti ci siamo tutti ma come ti lasciamo sempre dietro sei tu vai drago apri quello sfinto aspetto aspetto Delia siamo tutti qua ah no è vero ci mancava è perché c'è le azelle lì sto continuando ad aprire e chiudere sta porta per sbagliare acquario cerebrale oltricoltura mind flayer ok Andrea non stai sul fuoco ma sono anche l'ardinaggio quindi allora pronti salvataggio automatico chi è che ha preso fuoco vuoi davvero entrare nel ponte di comando si ah sto prendendo un botto di schiaffi ma non so perché uno o più giocatori hanno rifiutato la richiesta io perché ho preso schiaffi ah sei sul fuoco ma che ma che fuoco ma che fuoco quello lì è fuoco Gian ma perché personaggi morenti sei un membro del tuo gruppo di avventurei raggiunge 0 punti ferita e vai non sono io che sono morta così incredibile incredibile ma quale fuoco ma io vedo solo le bracci questo non lo vedo ma non le vedo non le vedo io le bianco ma entriamo in sto ponte di comando entriamo? si dai let's go attenzione full team guarda quanto siamo figli mancavo io però grazie io non vedevo Karen invece non mi vedevo mancavi tu perché o votano tutti oppure non no nell'immagine ah ma va bene ma perché c'è la tipa eh io invece non vedevo Gabbo l'ha svitato di Bruno madonna mia bello quello per fortuna stunna stile xcom oh yeah we must escape now allora signori qua siamo in fight iniziativa allora qua siamo in fight taggisco prima io poi c'è Zalk si e poi e poi ci siete voi insieme perché praticamente saresti uno dopo l'altro esatto io se posso dare un suggerimento se posso dare un suggerimento ammazziamo il comandante Zalk che c'ha l'equipaggiamento è molto buono il comandante Zalk c'ha 150 punti vita e noi siamo e noi siamo in 5 sì ma noi siamo in 5 e c'è un mind player sì ma noi siamo in 5 e c'è un mind player che lo ganka quindi per me stiamo bene così mi prendo il porco vai vedi c'è il mind player che lo ganka dai c'è un 150 di vita ma missa dai su cosa mi pensiate di fare uccidere il porco il porco il cinghiale infernale minore uccidere il porco 15 turni rimasti prima che il nautiloide si schianti ai ai questo complica l'uccisione del 150 HP quindi io scatto ma no dai ce la fate voi a fare l'imp minore dai te la lista sberla minchia sfocato hai fatto sfocatura al primo turno di combattimento eh lo so ma era magia selvaggia era magia selvaggia era magia selvaggia se non la sai controllare non la usare cioè e niente e muo che cazzo è sta roba come si vedono gli status ragazzi sfocato fatemi leggere che cos'è ispeziona ti ah è una cosa buona le altre creature hanno svantaggio ai tiri per colpire ah ma è una roba buona bravo e allora e allora limo tu mi uccide così perché ti sento urlare in doppio ah certo più in micro mi ammazzi così buca le altre creature hanno svantaggio ai tiri per colpire contro questa creatura a meno che non abbiano bisogno della vista o non siano in grado di vedere attraverso le illusioni bello e Narion Delia devi fare termina turno oh devi fare il turno voilà no l'ho fatto mi ha andato ucciso il puor ok ok va bene deflagrazione mentale salvezza fatto con successo e vabbè mancato merda vai vai Simo vado 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 non c'è una sopraelevata no no non qui non c'è la circomballa esatto eh invece c'è invece c'è però dall'altro lato quindi per ora suco facciamo così si no non ha senso buono 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 impandato minchia che male minchia aspetta quanti 68 ma gli ha fatto malissimo bisogna uccidere il comandante si abbiamo 14 turni però si fa arrivo merda preparati a un soffio di gelo non so se c'è il flanking ho fatto un danno si si il flanking c'è di sicuro non so se conta quella posizione prendetelo un personaggio di livello 8 si prende si prende così io raga inizio ad andare verso il mega motore no perché no ma in realtà si perché lui può farlo no ma in realtà si perché lui è non dovrebbe ma soprattutto lui può farlo perché comunque va dalla distanza quindi si può permettere di andare lì e se succede merda lui è pronto a premere il tastone ok mancato raga tranquilli raga si fa si fa si fa tanto vedi che lui ganka il mind player vuole qualche roll lui ganka il mind player non è un problema serve qualche roll ok più colpo di pomolo ok allora mancato è vero però ne approfitto per esaminare lui cambio di livello 8 immondo 20 di forza 16 di costituzione 16 di carisma resistente a praticamente qualsiasi cosa sulla terra di mezza ai danni taglienti di mezza ai perforanti contundenti estremamente resistente al freddo al fulmine al fuoco e al veleno protetto dal sangue dei tuoi antenati ottieni bonus di più 2 alla tua classe armatura figurati stavo osservando intorno lo sappiamo vai simo ce la voi fa rischio dai rischio dai il pazzo eh lo faccio dai niente allora fammi vedere cosa abbiamo di equipaggiamento qualcuno ha trovato pergamena di rinascita qualcuno ha trovato per caso una pozione 34 hp del mine flayer si fa si fa no 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 tipo una roba di fiamme 18 di CA ragazzi 18 di classe armatura mancato preferivo allontanarmi flower resistisci le tue reazioni what the fuck si bastardo infame eh na raga mancato anche quello voi fatevi tritare dal l'arcomandante vado a toccare il tastone paperone vai tranquillo abbiamo 10 turni si fa io li nascondo allora prendo il bulbo corrosivo lo lancio rischio di prendere anche Jan aspetta aspetta ah si eh me lo dicevi mi spostavo va bene tranquillo poi mi sposto vai sereno no no sto pensando sto pensando noi non abbiamo un fuoco dell'alchimista vero opa che succede? è che mi stavo spostando per guadagnare l'high ground ma succede merda no ok sono arrivati altri imp semplicemente sono due imp e un cinghiale infernale ok va bene non ce la facciamo allora semplicemente ammazziamo esatto i mob piccolini ci facciamo un po' d'esperienza si carissimo ah lui è enorme mi sposto perché se lui fa una oe mi piglia tipo con confusione roba piglia anche me va bene lo zompo è lo zompino per guadagnare un po' più di spazio oh roto Karen delia delia stai cercando di fare un attacco in stealth con gente che invece t'ha già vista ah dai ragione scusami 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 forse quello no ma non sono sicuro non è che vedo tutto quello che stai facendo allora come funziona l'attacco furtivo ipotizzo l'attacco furtivo funziona è che tu quando sei piancheggiato da cioè quando tu hai vantaggio al tiro per colpire contro un nemico fai e lo colpisci fai il danno d'attacco furtivo per fare per avere vantaggio o sei lo ha preso si e gli ha fatto anche abbastanza male lo ha preso con 21 è il che riapre la pista ne ha ancora cento eh ne ha ancora cento ma però vedi tu aspetta è un problema se muore il mind flayer beh noi siamo i prossimi bersagli dopo la morte del mind flayer quello è il problema eh sì quello è il problema però sai che da qua ora andiamo al 10% preso il bersagli è resistente al tuo attacco ha dimezzato tutti i danni esamina un'entità per scoprire resistenze usapave il problema è che ma non muore mai ragazzi non muorirà mai no andiamo pensiamo ai piccolini pensiamo ai piccolini uh fallimento critico mauro sono molto diversi in realtà sorcerer e wizard te la riassumo così wizard è uno shotgun fa poche spell ma le fa di livello altissimo sorcerer è un mitragliatore di magie vero acquario cerebrale mi suona bene o male come D&D è D&D dizionario è letteralmente D&D è letteralmente D&D letteralmente D&D quinta edizione vediamo se c'è qualcosa qua no non c'è niente qua sopra ok vado io premo il tastone aspetti direi aspettare un attimo c'è solo una chest qui in alto a sinistra ah ok allora aspetto va bene allora i turni sono letteralmente solo per premere il tastone no o no sì esatto se non muore il mind player prima esatto che comunque si ragazzi stanno arrivando di altro dietro holy shit brah brah ok va bene brah sono dei gs4 va bene tastone pazienza chest può rimanere lì senza problemi ma sì troveremo loot migliore più avanti non è un problema ma scherzi allora allora il dash funziona così devi dare l'azione di scatto e poi ti puoi muovere un botto tastona vado ho tastonato ho tastonato abbiamo tastonato suona il basso bro all'improvviso suona il basso molto in fretta ciao cugino suona val eh niente eh abbiamo un coglione per dio e niente vai tira tira mi sto slap you need to slap like now lo ha fatto no credo che lo abbia fatto in realtà e infatti qui state tutti vedendo me o ognuno vede il suo no io sto vedendo te vediamo te ok comunque il collegamento ci porta nel piano tra i piani e ora che la tocchi ci porta in un altro piano ancora ok l'altro piano 8 in intelligenza per un motivo ho 10 ho 10 ho 8 in forza prego portate rispetto abbiamo la stessa forza aspetto grazie coglione io ho forza 17 impongo il mio volere ovunque vada porca miseria sono seto caiba il massimo che è 15 più 2 di classe o no no grazie però non so fare però non so fare 2 più 2 no sono seto caiba cavaliere di gran fa questo si che è un personaggio col pelo sul petto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti